Ernesto Magorno, parlamentare del Partito Democratico, fa parte della Commissione Giustizia. Parliamo però di lavoro, visto che queste sono settimane calde sul tema lavoro. Basta una riforma per riportare i lavori in Italia? Beh, insomma, la riforma è necessaria, abbiamo bisogno di investimenti. Mi pare che la riforma va in questa direzione, quella di fare in modo che molte imprese, soprattutto quelle che vengono dall'Europa, dal resto del mondo, vengono ad investire in Calabria. La riforma mi pare che va in questa direzione, abbiamo bisogno di lavoro, investimenti e lavoro. Lei è anche Magorno il segretario del Partito Democratico in Calabria. La situazione nel mezzogiorno qual è oggi, con un tasso di disoccupazione giovanile che ha ormai da anni superato abbondantemente il 50%? È una situazione drammatica, siamo fuori dal Paese. Il lavoro è la necessità maggiore che hanno i nostri territori. Dicevamo prima giustizia, ecco, legalità e investimenti sono la sintesi di uno stesso percorso che bisogna fare nel mezzogiorno e soprattutto nella nostra regione. Bisogna fare la riforma del lavoro, dare maggiore garanzia nei nostri territori. Solo in questo modo ci saranno maggiori investimenti. Ci saranno investimenti, soprattutto nella nostra regione, dove per esempio c'è un porto, che è uno dei porti più straordinari che si trova sul Mediterraneo, penso al porto di Gioia Tauro. Mi pare che il governo, proprio ieri ho parlato con Del Rio, stia ragionando sulla zona economica speciale, stia ragionando per esempio sull'abbassamento dei costi per la tassa sull'angoraggio e sull'accise sui carburanti. Mi pare che se si va in questa direzione qualche messaggio lo possiamo dare e possiamo ricominciare a ragionare di entrare come regione, penso alla mia, pienamente nel paese e poi a guardare all'orizzonte l'Europa, ma che non sia una chimera, ma che sia una parte del mondo nel quale la Calabria possa stare. Onorevole Magorno, con una battuta. Mi dice se si aspettava da parte dei magistrati questa risposta così violenta sul fronte giustizia e riforma della giustizia proposta da Matteo Renzi? Io credo che ci sia una dialettica, una risposta violenta, insomma mi pare che bisogna che ognuno faccia la propria parte, che la politica faccia la propria parte, le istituzioni facciano la propria parte. In Italia c'è bisogno di maggiore giustizia, credo che lo capiscono anche i magistrati. In Italia c'è bisogno, soprattutto nel sud, soprattutto perché le imprese vengano ad investire che ci sia una giustizia certa. Un processo non può durare dieci volte in più di quanto duri a Torino, nel mezzogiorno del nostro paese e anche nella nostra regione. Quindi insomma una giustizia certa e una giustizia che sappia trovare la giusta misura, come quella dei ricci che nei boschi si allontano e si avvicinano. Ecco, la politica e la magistratura, le istituzioni e le magistrature devono trovare la giusta misura per stare insieme. Grazie e buon lavoro. Grazie.